Siamo qui con Giacomo Camisa, Sales Director Intermediary di Schröders, al quale vogliamo porre la domanda che stiamo un pochino ponendo a tutti i protagonisti di Consulenzia, ovvero quali saranno le prospettive per il 2020 nei mercati finanziari? Le prospettive sono positive, noi vediamo nel 2020 una crescita economica globale superiore al 2,5%, vediamo politiche monetarie espansive a livello globale e potenzialmente anche delle politiche fiscali espansive nella seconda parte dell'anno, quindi riteniamo che crescita economica ed espansione fiscale monetaria possono supportare in maniera positiva i rischi asset, quindi la componente azionaria e la componente obbligazionaria spread. Ovviamente ci sono e ci saranno dei momenti magari di riscoff sui mercati, un pochino di incertezza che creeranno volatilità, però crediamo che questo genererà forti opportunità per i gestori attivi per selezionare aziende che hanno prospettive positive, non solo in uno scenario come quello attuale, ma anche in scenari un pochino più volatili. Ecco esatto, in questo scenario abbastanza interessante se non un po' complesso di quest'anno, come si posiziona, quale sarà la sua strategia? Noi crediamo che nel 2020 si debba ritornare a guardare i dati economici veri dell'economia reale e anche a guardare effettivamente i dati di bilancio delle aziende. Ci sono aziende che noi definiamo disruptive, quindi aziende che riusciranno a modificare il loro metodo di business per essere all'avanguardia. Ci saranno anche aziende che avranno un'attenzione particolare per tematiche di lungo periodo come quella del clima, quindi crediamo che ci possano essere tante opportunità vincente sia nel 2020 che nei prossimi anni e strizziamo l'occhio anche in maniera molto positiva ai mercati asiatici e ai mercati azionari cinesi, dove la crescita economica, malgrado i rumori di breve periodo, è comunque molto interessante con prospettive positive in termini di consumi per il futuro.